Breve visita privata a Rieti per il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca Verdini. Lo riporta L'Amsa. Perché sono a Rieti? Perché non la conosco abbastanza? Sono già stato ma non inquiete. Ho mangiato tipico qui a Rieti, dopo aver visto la cascata delle marmore e ora facciamo due passi in centro. Pranzo al ristorante da Tito, a due passi dalla piazza centrale di Rieti e da piazza San Rufo. Ho mangiato formaggio tipico, stracotto, spinacinue. Oggi Umbria e Lazio. Ho scelto così. Il tempo non è il massimo, ma va bene. Il tempo non è il massimo, ma va bene. Il tempo non è il massimo, ma va bene. Il tempo non è il massimo, ma va bene. Il tempo non è il massimo, ma va bene. Il tempo non è il massimo, ma va bene.